Fontana, cosa ne pensa di questo progetto che dovrebbe essere realizzato in terra Bergamasca? Ma è sicuramente una cosa molto interessante che valuteremo con la massima attenzione, mi sembra di poter dire che le attività che erano prodromiche necessarie per poter dare una risposta sono in corso di realizzazione e si stanno concludendo, sicuramente è una cosa innovativa, è una cosa che è ancora un po' lontana dalla nostra mentalità ma che ha avuto tanti riscontri in altre parti del mondo che hanno dato tutti i riscontri positivi, quindi speriamo di riuscire a portare avanti questa iniziativa. Lara Magoni, Assessore regionale e Selvinese Doc, lo ricordiamo sempre perché questo progetto nasce dal cuore di Selvino, a che punto siamo? Siamo a un punto che il Presidente Fontana oggi è stato portato a conoscenza di questa grande opportunità non solo per Selvino ma per tutta la regione Lombardia e direi per l'Italia, potrebbe essere una cosa veramente molto internazionale che ci porta di grande attrattività, io tra l'altro arrivo da Dubai, solo ieri ho visto il loro schidome e devo dire che noi saremo molto avanti, vediamo innanzitutto quello che è stato richiesto oggi di poter portare avanti tutto quello che sono le pratiche a livello ambientale, di portare a chiusura quello e ci impegneremo su quello che debba essere chiaramente tutto legittimato e poi affronteremo questo percorso che riteniamo tutti sia una grande opportunità turistica attrattiva. Dopo anni diciamo che il progetto dello ski dom, snow dom come vogliamo chiamarlo, arriva una svolta, a che punto siamo e cosa è successo oggi? Oggi è successo che finalmente abbiamo potuto presentare questo grande progetto al Presidente Fontana, Presidente della Regione Lombardia e direi che sono felicissimo perché l'ha apprezzato molto, ha potuto veramente capire che è una struttura che servirà sia all'altopiano ma soprattutto a tutta la Lombardia e tutta Italia e quindi siamo veramente contenti e soddisfatti. È il terzo Presidente a cui presentiamo il progetto e sicuramente sarà quello che inaugurerà questo ski dom primo in Italia a Selvino. Ricordiamo che è sostenuto non solo dei silvinesi ma dei villeggianti quindi insomma c'è una sinergia nel portare avanti questo progetto. Sì, è detto bene perché noi è vero tutto però bisogna trovare comunque le risorse per poter andare avanti e chiudere l'inizio del burocratico. Questo l'abbiamo ottenuto grazie appunto a Nevelan di Nardelli che già da anni fa tutto quel progetto e segue la parte diciamo burocratica e soprattutto ultimamente abbiamo bisogno di avere altre risorse e abbiamo dovuto coinvolgere i silvinesi e i villeggianti e grazie al loro apporto spassionato e non sicuramente con delle mire di investimento ci hanno aiutato e quindi stiamo procedendo. Questo ci ha permesso di portare avanti e di portare e chiudere il più importante possibile l'ital burocratico. Abbiamo fatto tutto quello che ci è stato chiesto sia dall'amministrazione comunale ma anche da Regione Lombardia abbiamo preparato tutto, abbiamo fatto studio, approfondimenti, abbiamo speso 330 mila euro per ottemperare e per giustamente anche spiegare bene quali sono tutti i passaggi, tutti i dettagli di un progetto davvero così importante. Oggi siamo arrivati che abbiamo consegnato lo scorso mese di marzo il rapporto ambientale quindi questa famosa VAS. Adesso stiamo aspettando che Regione Lombardia lo analizzi approfonditamente e ci dia un riscontro, noi crediamo e siamo assolutamente certi che sia positivo proprio perché abbiamo fatto tutto quello che è stato richiesto per poi partire e trovare l'investitore e cantierare il progetto.